Per me tutto c'è un limite, io sono una persona che dove c'è il punto lo rispetto. Mi chiamo Maria Dominica, sono di Casal di Principe, i miei pregi sono di essere una persona abbastanza buona e di donare sempre le cose buone, di dare esperienza alle persone come sono io di carattere e come sono di cuore. I miei difetti sono che quando una persona mi fa delle cattiverie mi chiudo in me stessa, essendo non sarei tanta cattiveria mi chiudo in me stessa. Io riesco a convivere con tutte le persone, sia cattive che buone, però quando vedo delle persone troppo cattive vorrei donare anche a loro la mia bravura che ho. A volte riesco, a volte non riesco. Ho scelto di fare questo laboratorio prima di tutto per distrarmi dalle cose che sto vivendo. Poi anche per imparare delle esperienze un giorno mi potranno essere utili, mi potranno dare qualcosa altrove. La prima cosa della libertà, stando con un mio nipotino figlio di mia figlia di sei anni, un bambino meraviglioso e a lui dono tutto il mio bene. C'ho ogni cosa che è il mio e il suo, anche essendo che dicono che i nipoti si vogliono più bene dei figli. Per me è così. Mio nipote è oltre il bene di mia figlia. Non viaggia. Non viaggia.